Continua la saga della statua di Maradona, donata al comune dallo scultore Domenico Sepe, accettata da Palazzo San Giacomo e poi restituita dopo un anno e mezzo all'artista. C'è un'inchiesta della magistratura, ci sono richieste di rinvio a giudizio, c'è una situazione complessa indipendentemente dalla statua e da Maradona, ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, chiarendo i motivi che hanno portato alla delibera di restituzione del dono. Palazzo San Giacomo ha avuto comunicazione e materiale dalla procura e quindi ha deciso di adottare un comportamento prudente. La magistratura face il suo corso e quando tutto sarà chiaro, il comune deciderà cosa fare, la sintesi di Manfredi. L'opera era stata accettata con entusiasmo nel 2021, quando venne anche inaugurata ufficialmente. Nel giorno del primo anniversario della morte di Maradona, Palazzo San Giacomo fece sistemare il bronzo che raffigura il campione argentino davanti allo stadio, poi il dietro front. La statua venne rimossa e riportata nell'atelier di Sepe. E qui resterà fino a che la vicenda giudiziaria non sarà risolta.